The Building, hotel 4 stelle al centro di Roma, presenta Gourmans, ristorante immerso in un'atmosfera avvolgente e suggestiva, dove gustare il meglio dei sapori mediterranei. Un'ampia scelta di cucina internazionale ed etnica, con materie prime di ottima qualità, magistralmente interpretate dallo chef Andrea Cossalter. Ristorante Gourmans, presso Hotel The Building, in via Montebello, 126, Roma. Ristorante Gourmans, presso Hotel The Building, in via Montebello, 126, Roma. Tiberia Hospital, ospedale polispecialistico privato, accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale. Tecnologie diagnostiche di ultima generazione e a misura di paziente. Breast Center, per la diagnosi e terapia del tumore al seno. Chirurgia generale, mini-invasiva per un rapido recupero. E Dental Unit, la sicurezza dell'odontoiatria in ospedale. Tiberia Hospital, per un approccio completo alla salute, al servizio di ogni persona. Tiberia Hospital, per un rappeltamento di clienti a toda zona. Buonasera, ben trovati. Un preoccupante aumento dei fallimenti delle imprese. La pandemia prima, poi la crisi internazionale, i conseguenti rincari di energie e materie prime, le difficoltà soprattutto di accesso al credito per le PMI, continuano a mettere in ginocchio decine di migliaia di aziende, che oggi sono fortemente indebitate e che non riusciranno ad andare avanti a lungo senza un piano di aiuti fattivi e risolutivo. Aggiungiamo noi questo piano, al momento non lo vediamo all'orizzonte, purtroppo. Ne parliamo con Marco Coppola, imprenditore e rappresentante FIPE. Ben arrivato e buonasera. Salve, buonasera. Marianna Tramontano, Marketing Communication Management, Azimut Marketplace. Buonasera. Buonasera. Poi lei dopo ci spiega di alcune cose fatte bene nel nostro paese. Il dottor Alessandro Venturieri, io lo lascio professore, la ritrovo presidente, presidente Roma Multiservizi. Buonasera. Meno di noi, presidente Confederazione EPI, Associazione Europea di Professionisti e Imprese. Bentornato e buonasera. Buonasera. Filippo Renzi, responsabile Marketing Roma Multiservizi. Buonasera. Dopo le difficoltà causate dal Covid, della guerra in Ucraina, come sappiamo perfettamente, e purtroppo un aumento crescente quasi quotidiano dei fallimenti dovuti ai rincari energetici, non solo ma anche tutte le cose che un po' abbiamo detto in apertura, qui serve una brusca impennata, soprattutto dalla parte della politica. Servono soluzioni, ma soluzioni oggi, soluzioni quasi immediate e noi queste purtroppo, caro presidente, professore, non le vediamo. Come mai questa cosa? Tutti quanti pensavamo che, diciamo, allentata un pochettino la morsa della pandemia, ci sarebbe stata una ripresa che effettivamente nei numeri era partita. E' chiaro che la crisi che si è creata con il caro carburante, il caro bolletto e quant'altro, di conseguenza le imprese hanno avuto una difficoltà notevole. Si pensi che soltanto nel 2022 si calcola che solo per i carburanti le imprese del solo settore terziario spenderanno circa 7 miliardi di euro in più, che è una cifra impressionante. Per non contare poi il caro bolletto, il caro gas e il caro luce. Però, infatti, vi faccio capire una cosa, perché questo è poi importante. Allora, ci sono dei rincari che sono dei rincari, ragazzi, veramente fuori dal mondo, non riusciamo a capirli, però la maggior parte dei rincari energetici, gas compreso, che ricordiamo in un anno ha aumentato di 6-7 volte, cioè cifre pazzesche, sono iniziati prima della guerra, cioè c'è qualcosa che non mi quadra, c'è qualcosa che non mi sconfinfera, cioè non è la guerra e il gas aumenta. L'aumento già era molto importante prima, ma come è questa cosa? Però era già cominciata una politica da parte della Russia di un taglio progressivo delle forniture di gas in particolar modo, quindi diciamo che è vero quello che lei sta dicendo e come è vero purtroppo che le radici affondano in tempi precedenti alla guerra, che logicamente il conflitto ha notevolmente accentuato. Invece i rincari quotidiani, perché io, voi, la Tramontano, lei, andiamo a fare spesa tutti i giorni e ogni giorno troviamo una brutta sorpresa, perché ogni giorno io vado a fare spesa, ci arrivano dopo una settimana, i beni di necessità, tipo il pane, il 20% in più. Cioè qui tra un po', secondo dei calcoli molto precisi, le famiglie italiane perderanno da qui al 2022, primi del 2023, uno stipendio l'anno. Sai che vuol dire? Per alcune famiglie che non riescono ad arrivare a fine mese, vuol dire la non capacità proprio di poter poi pagare. Sì, tra l'altro però dobbiamo considerare, su questo che dici, che è assolutamente vero, il fatto che l'aumento della materia energia, quindi che può essere dal carburante... Inficia sulla filiera? Assolutamente, assolutamente. Però secondo me ci sono... In maniera decisa e netta. Sempre i furbetti dietro l'angolo, di questo ne siamo assolutamente convinti. Presidente di noi, chi ne pensa? E poi i settori più a rischio, ahimè, sono il commercio e l'edilizia. L'edilizia per il motivo che ho detto poco fa, nel senso che qui hanno fatto un casino con questo super bonus, possiamo dirlo. Cioè fa il super bonus, riparte l'economia. Tra l'altro si parla di 33.000 imprese a rischio, fallimento e una perdita di 150.000 posti di lavoro. Tanto per darci due numeri, tanto per capirci, no? Allora, hanno fatto una cosa sulla carta fatta bene. Poi hanno scoperto in realtà che non era fatta così bene, perché delle persone se ne sono approfittate. Ci hanno rimesso mano, poi ci hanno rimesso mano nuovamente. Ad oggi ci sono, come abbiamo detto, circa 4 miliardi di crediti fermi per il super bonus. Per non parlare poi del settore del commercio, ne parleremo poi ovviamente con i nostri amici di FIPE, perché è pure lì una confusione, ragazzi, pazzesca. Cioè, lei non pensa che anche la nostra politica in qualche modo è responsabile in modo importante? Se ci fosse un confronto più fattivo con le confederazioni tipo la vostra, forse ci sarebbero delle soluzioni più smart, no? Sì, innanzitutto, faccio una premessa, così poi possiamo liberamente entrare nel merito della questione. I furbetti, da che mondo in mondo, esistono sempre. Esistono per super bonus, esistono sui rincari, esiste su ogni cosa che, comunque, ogni qual volta c'è un'opportunità, c'è un intervento, c'è sempre qualcuno che pensa di sfruttare, strumentalizzare e arricchirsi sulle spalle degli altri. Detto ciò, che è prettamente una cultura, diciamo, italiana, penso che a questo punto chi ha, diciamo, la responsabilità di dettare le regole del gioco, di controllare, di avere una visione strategica di dove stiamo andando, quindi la politica, non può nascondersi dietro quest'alibi, perché quello che sta accadendo, prima col Covid, che ancora non è terminato, quindi, diciamo, durante i due anni di pandemia, anzi, ritorna, poi con la guerra in Ucraina, aggiungiamo con la siccita, che in queste ore ci sta travolgendo e ci comporterà ulteriori problemi sul comparto agricolo. Quello che sta accadendo in questi ultimi tre anni non è altro che la presa a visione di un fallimento politico degli ultimi vent'anni, perché se noi continuiamo, e l'ho detto anche qui in altri momenti e in altre circostanze, se noi continuiamo con una politica che interviene giorno per giorno, senza una visione strategica, non è in grado di fare interventi strategici per risanare i problemi del passato, dare una dimensione rispetto al futuro, ma continuando a inseguire. Rispetto a questo è chiaro che avrà una miopia, basta vedere anche il decreto aiuti. Se in questo momento l'assunzione di responsabilità dalle associazioni di categoria che siamo pronti a dare il nostro contributo, perché lo dobbiamo, è un senso del dovere anche farlo in questo momento e parlo per tutti. Dopodiché la politica deve ascoltare, deve dialogare, ma soprattutto avere una visione strategica attraverso il fatto che deve anche farsi garante di aiutare tutti attraverso una garanzia totale del sistema paese rispetto alle imprese, rispetto ai lavoratori, rispetto alle famiglie. Siccome ciò non sta accadendo, più che chiamare un decreto aiuti in queste ore l'avrei chiamato un decreto fallimento, perché in questo decreto è un dato di fatto, perché continuiamo a fare interventi a pioggia o che comunque risolvono il problema del momento, ma non ci danno un ampio respiro rispetto al futuro. Il tema del gas, dell'energia, non lo scopriamo oggi. Il problema della cassa integrazione, non lo scopriamo oggi. Il problema del bonus edilizio, quello è un tema che è prettamente italiano. Cioè quando qualcosa, abbiamo la sensazione che non funziona, la cassiamo e andiamo avanti. Ma se il principio è sano, perché aiutare attraverso il credito di imposta, soprattutto l'edilizia, nel mettere in piedi tutto il comparto che ruota intorno all'edilizia, delle grandi opportunità, allora io devo intervenire dove le cose non funzionano. Però oggi l'applicazione sul super bonus, oggi gli intermediari finanziari hanno praticamente bloccato gli acquisti del credito. Oggi è successa questa cosa. Certo, ma anche lì, in due anni che abbiamo iniziato con questo provvedimento, al diare delle truffe, al diare tutto, ma continua a cambiare la norma in continuazione. Non si dà certezza alle banche, non si dà certezza ai comprecati, non si dà certezza alle imprese che intervengono, non si dà incertezza ai condomini, non si dà incertezza ai proprietari anche delle villette. Cioè qui la norma, che è prettamente italiana, ripeto, qui stiamo toccando, ogni giorno viene modificata, va in contrasto con la norma del giorno precedente, paralizza il sistema e oggi stiamo rischiando, anzi io aggiungo che non è che rischiamo che in autunno i fallimenti sono iniziati, le microimprese hanno già grosse difficoltà, perché la microimpresa che è andata in difficoltà già come famiglia, perché molte microimprese sono a gestione familiare, già con il caro Bollette e con gli altri interventi sono andati in difficoltà come famiglia, poi nell'impresa che ha gestione, parlo da zero a dieci dipendenti, che ha tutt'altre difficoltà anche di gestione e di realizzazione dell'attività, con questa roba qui è chiaro che ha già iniziato la crisi ed è già iniziata a saltare, per cui credo che in questo momento forse il governo, la politica, si dovrebbe fermare un attimo, dire guardate e non entrare in campagna elettorale, perché in tutto questo siamo nel vottice della campagna elettorale, che di tutto ciò che slogano uno contro l'altro, ma del sistema paese sono in occupa. Mi perdoni Presidente, oggi è un fiume in pieno, è una cosa che mi fa molto piacere, però devo dire, lei ha perfettamente ragione, ma oggi in realtà che politica c'è? All'interno del palazzo stanno tutti là, tutti uniti, tutti dietro l'ombra di Draghi, quindi nonostante Draghi il paese non funziona, c'è il cortocircuito. Perché è il sistema politico che non funziona. Ma io sono d'accordo con lei. Non solo, ma su questo dico, io sono, allora, il sistema Draghi, Draghi è stato chiamato, l'abbiamo già visto con Monti, per salvare la patria. Attenzione, che è diventato un alibi nel momento in cui la politica non si mette d'accordo nel palazzo, chiama il tecnico per risolvere il problema. Noi lo spieghiamo che si ritorni intanto a un governo politico che dia stabilità, perché nell'instabilità è difficile risolvere i problemi, senza un governo politico, perché è un governo tecnico che risolve i problemi, diciamo, dell'economia, dei numeri al momento, ma la strategia è la visione del paese, della politica, quindi forse i partiti politici dovrebbero più pensare e preoccuparsi di questo che non litigare sulla posizione elettorale. Dicevamo poco fa che i settori più a rischio, anzi, devo dire, i settori che in questi ultimi due anni, due anni e mezzo, hanno sofferto maggiormente, sono proprio quelli che rappresentate voi e coppolano. Allora, innanzitutto, non vice un politica che non c'è. Io, per esempio, per quanto riguarda i diorsi esterni dei ristoranti, li faccio sì, ma fino a quando non lo so, poi prorogo di tre mesi, poi un mese, poi faccio una giravolta, non ci si capisce niente. Allora, un imprenditore non sa se può investire su un esterno fatto bene, perché poi deve essere fatto bene, deve essere consono, deve essere funzionale, oppure no, perché non sa per quanto tempo è aperto. Tra l'altro, hanno stati promessi tantissimi soldi, che spesso e volentieri non sono stati dati, poi parleremo anche del perché le banche non erogano i soldi nei periodi di difficoltà. Terzo, anche voi siete d'accordo che in realtà questa è una classe politica che non fa nessun tipo di prospettiva? Cioè, qui continuiamo a scoprire il problema e lo attappiamo con delle leggi. Dopo sei mesi vanno cambiate, così non andiamo a nessuna parte. Non posso che dire che nella sua domanda c'è già la risposta, perché il problema è di... partiamo dai dehors, no? Una cosa abbastanza semplice. Anche prima della pandemia, che il Covid non è un problema dehors, nel primo municipio, in partire a Roma, c'era forse una ideologia, un'ideologia di fondo che il tavolino era contro la sua intendenza, era brutto. Migliaia e migliaia di domande ferme, perché comunque non c'era certezza. Il Covid ha creato per un periodo emergenziale, diciamo, una deroga, quindi l'Italia, ritorniamo al paese delle deroghe, in cui fate come vi pare, è sembrato, no? E quindi tutti quanti a investire in questi tavolini. Dopodiché però l'imprenditore sano ha detto, ok, ma io me lo faccio fare per sei mesi, ma poi io devo investire di creare una... Poi in questo periodo devo investire, cioè, non è che devo investire in un periodo normale, dopo un anno e mezzo che non lavoro, investo per poter provare a rilavorare e non ho un... Oltretutto abbiamo avuto un sali e scendi di poter lavorare. È chiaro. Questa è stata la cosa peggiore, perché il momento in cui io, all'inizio dell'estate scorsa, mi viene concesso di fare un dehors, faccio la stagione, poi mi ritrovo già a settembre riparlare di nuovo di casi in aumento e mi richiudono, faccio un inverno chiuso, riparto di nuovo a marzo e aprile, a questo punto sono scottato, perché ho paura adesso io, che non posso che negare che molte cose vanno bene, cioè, i turisti muovono le grandi città, in particolare a Roma, vediamo, si ricomincia a riparlare di overtourism, no? Però poi cosa succede? Cosa succederà a settembre quando adesso ci stiamo spaventando per questo aumento dei contagi? Questa cosa... No, e poi, tra l'altro, mi perdoni, mi ha parlato di Roma, quindi non posso resistere nella nostra meravigliosa città, che è una città che dovrebbe poi vivere di turismo, ricordiamolo, e adesso, diciamo, ci sono questi progetti importanti da parte della giunta Gualtieri, della giunta che amministra Roma, progetti da 500 milioni di euro, che dovrebbero rilanciare un po' il turismo, però non si capisce dove, come, quando e che modo vengono investiti i soldi, e soprattutto tante criticità, dobbiamo risolvere ora, perché il giubileo è domani. A me piacerebbe ridere una stagione del 99, il 99 quel giubileo fu un volano pazzesco per la nostra città. Nel 99 Roma era un cantiere, e nel 2000 fu forse una delle poche volte in cui funzionò. Tempi funzionali, tempi normali, ecco, diciamo questo, sì. Purtroppo non mi sembra di vedere all'orizzonte questa programmazione e organizzazione, questa è un'aggiunta che non voglio giudicare perché è da poco che è in carico, sicuramente dal punto di vista dell'eventistica c'è tanta promozione, si parla tanto, però poi, come dice lei, bisognerà vedere i risultati. I risultati poi contano, no? Cioè, spicciamente, parliamo da commerciante, in modo spiccio, vedere sicuramente, ok, stiamo partendo. Io su questo ho i miei dubbi, ma purtroppo nel mio piccolo, nel mio imprenditore, non posso vedere queste geo... Allora, lei è anche oltre un rappresentante della FIB, è anche un piccolo imprenditore, e ricordiamo, come ci ha detto giustamente poco fa il presidente di noi, che in realtà i piccoli imprenditori, i piccoli e medi imprenditori, le famose PMI, sono un po' la colonna portante del sistema Paese Italia. PMI che sono completamente affossate, da varie cose. Ah, da una tassazione fuori dal mondo, abbiamo una tassazione più alta, proprio, fra le più alte al mondo e la più alta in Europa, e noi siamo anche cittadini europei. Cioè, io, lei, lei, oltre a essere cittadini italiani, avere un'azienda italiana, io sono anche un cittadino europeo. Perché devo pagare quattro volte le tasse in più rispetto al mio competitor? Prima cosa. Seconda problematica, non abbiamo, non siamo aiutati nel modo giusto. Cioè, se ho bisogno di credito, là poi ci spiegherà la nostra tramontana, ma sul tramontano, ma sul credito proprio, ragazzi, oggi c'è un blocco totale. Cioè, veramente si rischia, quello che abbiamo detto prima, che la situazione a settembre, nonostante il PNRR, di cui tutti parlano, di cui tutti si riempiono la bocca, la situazione vada invece in discesa. Hai citato due cose molto importanti. Prima il discorso della tassazione. A me piacerebbe anche a me dare più soldi in busta a pagare i miei dipendenti. Noi abbiamo anche una struttura a Milano, ieri abbiamo ospitato un convegno riguardante il caro della città, quanto sia difficile vivere a Milano, no? Questo si allarga anche a Roma, Firenze, senza problemi. Si parlava di tassiamo la quattordicesima i dipendenti. No, ma la soluzione c'è, tagliamo il cugno fiscale. Cioè, rispostiamo la tassazione dall'imprenditoria alla proprietà privata, perché oggi siamo un paese unicum europeo, dove c'è una percentuale molto più alta di tasse per chi produce contro per chi sta in... Poi noi abbiamo fatto proprio il pagellino, intanto ci piace fare questa cosa, il pagellino nei nostri momenti di ordinaria follia, e una persona che prende uno stipendio lordo di 3.000-3.500 euro al mese, stipendio lordo, 14 mensilità, si mette in tasca più o meno un 40%, 40-45. Cioè, ci rendiamo conto? Così non riusciamo a andare a nessuna parte. La politica ne parla da tantissimo tempo, di cambiare il funo fiscale, faremo questo, faremo questo, faremo quest'altro, ma al momento non si fa nulla. Allora, Renzi, lei che è responsabile, con questo cognome poi così importante, è responsabile di comunicazione. Allora, secondo lei, la nostra classe politica, le cose che abbiamo detto fino adesso, si sta comportando male, non bene, bene ma non sa comunicare? C'è un problema enorme sulla comunicazione, secondo lei? Allora, diciamo che, innanzitutto, c'è un problema di fondo, di base, che noi siamo in questo momento governati da una maggioranza che sta in piedi senza che ha nessun tipo di valore condiviso. E questo è anche la risposta ai continui litigi, ai continui disaccordi sui provvedimenti da prendere e da votare. Ovviamente questo determina anche che non c'è una strategia. Dopodiché, come diceva il Presidente, di noi, poiché siamo entrati anche in un discorso di pre-campagna elettorale, se non addirittura già di campagna elettorale, ovviamente ogni tipo di visione su una strategia corretta e anche su una presa di coraggio, per quanto riguarda, ad esempio, il cuneo fiscale. Ma io indicherei anche, se ne parla da anni, l'abolizione completa dell'IRAP, cosa che adesso è sparsa dai rai. Si parla da anni di tante cose. Il vero problema è che comunque sia, molto spesso, non c'è una, per una serie di motivi, non c'è mai la determinazione di una maggioranza omogenea. Assistiamo ormai da anni che noi cittadini andiamo a votare 9 volte su 10 per un Presidente che poi non sarà quello. E siamo governati in una classe politica che sta insieme per sopravvivenza della carica. Volevo solo aggiungere una cosa, non su questi dettagli per quanto riguarda il 110, ma anche il mondo dei servizi, soprattutto i servizi di facility management, sui quali posso esprimervi, perché il mercato di riferimento, voglio dire, anche se con caratteristiche e con elementi diversi, ma vivono anche loro nella precarietà e nel cambio continuo delle donne. A proposito di voi, mi perdono, di Roma Multiservizio, anche voi in realtà dovreste comunicare meglio le cose fatte bene, perché possiamo ricordare che avete avuto poi dei voti molto alti su quelli che sono i vostri servizi, no? Assolutissimamente sì. Nel senso, è stato detto dagli utenti, quindi non da addetti ai lavori, ma da chi ne usufruisce, quindi una fonte attendibile, avete avuto dei punteggi molto alti, superiori al 90%. Perché non l'avete comunicato? Le cose che funzionano, diciamole, nel nostro paese. Sì, ma certamente, voglio dire. Allora, diciamo che siamo molto concentrati su far bene il nostro lavoro e concentrati soprattutto sulle attività che ci vedono impegnati sulla città romana. Lei, ovviamente, faceva riferimento a quelli che è uno dei servizi di punte di Roma Multiservizi, che sono i servizi scolastici, che comprendono soprattutto l'assistenza. Quindi comprendono, voglio dire, un servizio che viene erogato a stretto contatto dell'utente, inteso anche come famiglia, con contatti giornalieri e quindi fondamentalmente le famiglie si rendono conti in maniera diretta e vicina all'erogazione dei servizi e alla qualità dei servizi che forniamo. Sicuramente migliorare, come dire, e dire le eccellenze. Beh, dire, quando fa una cosa fatta bene, dovremmo dirla. Presidente, tanto che lei è in carica da poco, ovviamente, sempre per quanto riguarda Roma Multiservizi. Quali sono i progetti? Perché so che avete delle idee ambiziose e, alla faccia della politica, anche con tempistiche molto veloci. Sì, noi abbiamo... Era una sottolineatura indispensabile, non potevo resistere. Noi abbiamo, logicamente, in mente di rilanciare in maniera vigorosa questa società, che poi è lo spirito. Prima si parlava del 1999, quando Francesco Rutelli diede un grosso impulso a questa città e proprio su impulso di Francesco Rutelli, nel 1994, nasce questa società. Ora, noi vogliamo riportare lo spirito originario di questa società, quindi ampliare i servizi e quindi cercare di far entrare la Roma Multiservizi all'interno della vita di tutti i cittadini di Roma, che oggi magari si confrontano con la nostra realtà, anche senza troppa pubblicità, è vero, come prima evidenziava lei, si confrontano magari per quanto riguarda i servizi scolastici o le pulizie dei plessi stessi. Noi invece vorremmo entrare nella città di Roma su tutto ciò che riguarda la vita di tutti i giorni. Faccio un esempio. Assistiamo in questo periodo al verde pubblico che, logicamente, data la siccità, data un pochino la normale, non parliamo di quelli dolosi, ma la normale combustione che può avvenire nel periodo estivo, ci troviamo di fronte a delle situazioni emergenziali. Ecco, noi vorremmo fare in modo che magari anche quello possa essere gestito in maniera diversa e perché no direttamente dalla nostra società. Beh, sarebbe auspicabile. Vabbè, ci penseremo noi nel nostro piccolo a cercare poi di comunicare, di veicolare le cose che funzionano a Renzi. Mi sembra anche giusto, no? Vanno detto, comunque, se almeno su alcuni servizi Roma funziona, vanno dette anche le cose in divenire. Diciamo un po' tutta la caratteristica del mondo dei servizi. Ora, riallacciandomi un po' ai discorsi che riguardavano il lockdown e la prima pandemia, il mondo dei servizi è stato sempre un mondo considerato come secondario. Poi arriva la pandemia e si scopre che alcuni servizi, soprattutto quelli in ambito sanitario, sono fondamentali, con altrettanta importanza, come le hanno rivestiti il ruolo dei medici e degli infermieri, per il funzionamento delle strutture, per la sanificazione delle strutture, per il rifunzionamento dei servizi fanici di management, di manutenzione, l'apertura di nuovi riparti, che hanno consentito poi di affrontare, ovviamente, la prima emergenza. E come ogni cosa, una volta che è finita l'emergenza, è un mondo che rientra praticamente nell'ombra. Ora, noi abbiamo dei problemi di tipo diverso rispetto a quello che è il 110, ma la sostanza non cambia. Noi, dopo questa, come dire, improvvisa notorietà che ci hanno tutti attribuito, voglio dire che anche con un certo valore mediatico, siamo orientati nell'ombra, ad esempio nei servizi nostri, che abbiamo dimostrato con i fatti che sono di fondamentale importanza, viviamo nello sparacchio di un'immenente riforma attraverso una revisione della spesa, una spending review, che adesso, per via di questi aumenti, il caro energetico è un po', come dire, è stata, adesso non è più di attualità, ma, insomma, è sempre dietro l'angolo e può, come dire, ritornare. Cosa che ci preoccupa, soprattutto preoccupa tutto il settore, perché, come anche la caratteristica dei cambi e dei modifiche in corsa, ci troviamo già con un comitato scientifico che è di composizione solo pubblica, già composto, Banca d'Italia, Istat, Corte dei Conti e Ragioneria dello Stato, ovviamente pronti subito a prendere i primi provvedimenti. E questo è, diciamo, come dire, ci preoccupa soprattutto perché già anni fa c'è stata un spending review con un taglio orizzontale avvenuto in tutti i settori, in tutti i servizi, che non solo ha comportato una difficoltà per le imprese con margini improvvisamente ridotti, ma soprattutto ha comportato quello che è stata una riduzione dei rapporti lavorativi, sia per quanto riguarda la quantità, ma soprattutto per quanto riguarda la qualità. personale che ovviamente ha visto ridotto il proprio orario di lavoro e quindi con difficoltà in questo contesto. Però adesso mi perdoni, è fondamentale che si rilavora in un'ottica di qualità, in un'ottica ben precisa, perché l'abbiamo detto prima, sia il sistema Paese Italia, ma soprattutto la nostra meravigliosa capitale, se non torniamo a dei margini di qualità importante, andiamo a toppare quelli che sono gli eventi cardine che ci saranno nei prossimi anni, che sono assolutamente importanti e fondamentali per il rilancio della metropoli. Cioè 2023, 25, 30 e 33 non li possiamo toppare, ma neanche di un giorno, cioè non è proponibile. Di noi, a parte queste cose, noi ci auguriamo che poi la situazione vada nel giusto modo, però come abbiamo capito, se delle cose vengono fatte bene o delle società lavorano bene, almeno noi lo comunichiamo, perdonatevelo, poi lo faremo insieme, che le devo dire? Allora, Presidente, però qui dal blocco delle gestioni del credito abbiamo detto prima, se non c'è un exit strategy immediata, ci sono più o meno 33 mila imprese a rischio e una perdita di 150 mila lavoratori. Inoltre, la pubblica amministrazione inizia a non pagare, cifre importanti, 55,6 miliardi, ma è un problema burocratico o è un problema di mancanza di liquidità, secondo lei? Ma io le metterei tutte insieme. Ah, appassionatamente, perfetto. Certo, perché, ascoltando prima anche il dottor Renzi, i belli esempi funzionano rispetto anche agli appuntamenti del futuro, se alla base, nei prossimi anni, finalmente questo Paese applica anche una semplificazione amministrativa, perché il problema dei processi anche da pubblica amministrazione rispetto anche alla vita quotidiana da cittadino, da impresa, da lavoratore, passa attraverso la semplificazione della burocrazia. Quindi, anche rispetto ai grandi eventi o a delle iniziative che possono essere funzionali, a un'apertura di una licenza commerciale, fino a grandi sistemi di interpretazione, anche di interventi, tutto questo passa attraverso anche a una pubblica amministrazione efficace, che garantisca la qualità, ma anche semplificativa, perché non passa solo attraverso le norme, anche attraverso la sburocratizzazione dei processi. È chiaro che in tutto questo c'è un problema di sburocratizzazione e semplificazione della macchina amministrativa, c'è un problema anche di liquidità, perché probabilmente quando è partito l'iniziativa del Superbonus si aveva una visione. Nel cambiare è come quando si va in aula a colpi di fiducia. Quando si va a colpi di fiducia la ricerca costante anche su emendamenti, su ordine del giorno, di mediazioni, si perde il punto finale e il punto di partenza. Cioè, siamo partiti in un modo e ci ritroviamo un altro. E spesso la parte finale non coincide con l'obiettivo della parte iniziale. Detto ciò, è chiaro che se la coperta stabilita per Superbonus attraverso gli interventi sul credito di imposta, attraverso gli incentivi alle imprese, attraverso quello che doveva essere tutto il processo, in due anni subisce tutto un cambio di norme, è chiaro che alla fine non ci sono più le risorse, non ci sono più gli interventi e in tutto questo clima di incertezza, dopo aver paralizzato anche tra le banche e chi e i fondi che potevano comprare anche il credito, hanno fatto in modo che non ci fosse anche più la liquidità. Quindi, mancanza di liquidità, la semplificazione amministrativa mai attuata, anche in questo caso poteva servire, perché se io penso a ciò che è stato anche l'intervento dei tecnici, cioè, i tecnici poi dovevano andare per l'efficientamento, poi dovevano da cazzo al comune, il comune che nel frattempo tra smart working è una innovazione tecnologica non applicata alla macchina amministrativa, di fatto non si trovavano per i condoni, le licenze, c'è tutta questa roba qui. È chiaro che oggi è una bomba a orologeria, il che vuol dire non cancellare la norma. Oggi, solo a me, e qui, non ricordo che io diceva prima, è il momento di avere coraggio, cioè la politica in questo momento si deve fermare, avere coraggio e fare due o tre interventi che sono la semplificazione amministrativa, sono l'intervento di una riforma fiscale e razionalizzare le poche cose che funzionano. Ma se non stessero in campagna elettorale un po' di coraggio avrebbero il problema. Ma ci stanno tutti i giorni in campagna elettorale. Esatto, ci stanno tutti i giorni. Anche perché, mi permette di concludo, la campagna elettorale non è solamente perché fra un anno si vota, il problema della politica in questo momento è che la campagna elettorale parte anche all'interno delle correnti in un stesso partito. Quindi, solo perché chi sta al governo non risponde al segreto di partito e viceversa questa cosa blocca il sistema. Quindi, l'appello è fermatevi, ragionate e sentite perché il Paese è in ginocchio non a novembre. Non a novembre chiuderanno le imprese. Sono già saltate, ci sono già problemi, ci sono delle difficoltà sociali. Basta chiedere i dati reali al diate del Censi, saltate tutti i centri studi. Basta regarsi in un centro Caritas e ci si rende conto come la gente si rega perché non ce la fa più. Il problema è che sono talmente attaccati alle loro poltrone anche perché le poltrone come sappiamo saranno un po' meno nelle prossime tornate elettorali che qui stanno tutti nel panico più totale i nostri amici i famosi che come sapete perfettamente laureati di Scienze Confuse della politica mi ha detto una frase fondamentale mi ha parlato di banche ragazzi qui quando si parla di banche io non so se ridere o piangere o meglio non so se piangere o disperarmi l'accesso al credito è un tema davvero spinoso direi che è quasi impossibile oggi le banche hanno completamente chiuso i rubinetti in un momento in cui le banche sono piene di soldi perché dentro le banche ci sono un sacco di soldi ma se tu vai non riesci ad avere credito invece ci sono poi delle realtà diverse come Azimut Marketplace che hanno delle differenze rispetto al sistema bancario tradizionale allora ci può spiegare Marianna Tramontano come funziona questo approccio diverso ci piace l'approccio diverso grazie Andrea per questo spazio e ti ringrazio soprattutto per essere qui a questo tavolo dove c'è un imprenditore in effetti Azimut Marketplace è una piattaforma nata proprio dall'ascolto degli imprenditori ed è una piattaforma completamente digitale non siamo una banca non siamo una banca siamo una piattaforma che include servizi finanziari e stiamo affiancando le banche proprio nel supportare le piccole e medie imprese proprio in un tema spinoso come detto che è appunto l'accesso al credito quindi come funziona non ci si rivolge a noi diciamo recandosi ad uno sportello fisico è una piattaforma completamente digitale dove l'imprenditore può registrarsi gratuitamente proprio semplicemente caricando i propri documenti e in 5 minuti accede ad una piattaforma che include diversi servizi tra cui finanziamenti istantanei e anticipo fattore quindi è una soluzione che ad oggi già è utile a 5.000 imprenditori a 5.000 imprese quali sono i repertoni perché questa è una cosa molto interessante ed è quello che in realtà dovevano fare le nostre banche che non fanno si ricorda il famoso atto d'amore delle banche si ricorda le banche rogeranno pioggia perché ci saranno le garanzie di medio credito centrale ma quando? tutto ciò allora è successo allora voi in qualche modo vi mettete in che modo come garanti qual è esattamente il vostro passaggio io ho un'azienda ho bisogno di denari non perché me li voglio mettere in tasca e voglio scappare in Svizzera perché questa è una cosa che i nostri amici devono capire tante volte le persone le aziende chiedono soldi semplicemente per salvare le aziende dopo due anni vengo da lei perché le banche non mi si sono filate di pezza e questo è molto grave in un paese come l'Italia mi registro e poi? noi ci registro l'imprenditore si registra e poi può praticamente accedere appunto a dei servizi che vengono selezionati da noi quindi noi siamo un intermediario praticamente mettiamo in collegamento gli imprenditori con delle soluzioni nuove che in altri modi magari non potrebbe conoscere venire a conoscenza quindi per dare una risposta alla tua domanda noi siamo prima di tutto una piattaforma fintech quindi siamo una piattaforma che applica ai servizi finanziari la tecnologia proprio per creare quel circuito diciamo virtuoso proprio di convenienza di facilità di utilizzo quindi per dare diciamo delle dimensioni proprio a questo segmento che non è nuovo ma è esploso negli ultimi anni in effetti il fintech nel 2019 forniva prestiti alle imprese per circa 400 milioni di euro nel 2021 questi prestiti per le imprese ammontano addirittura 3,7 miliardi quindi si parla di un per dieci nel giro di pochi anni quindi siamo completamente in controtendenza completamente in controtendenza esatto diciamo stiamo cercando di raggiungere più velocemente gli imprenditori proprio perché oggi possiamo considerarci una valida alternativa al sistema bancario un'alternativa che appunto oggi solo considerando la realtà di Azimut Marketplace di fatto conta 400 milioni di richieste di finanziamento da parte delle imprese italiane richieste che sono arrivate soltanto dall'ottobre 2021 quindi siamo di fatto un punto di riferimento nel sistema bancario tradizionale proprio perché Azimut è una realtà già molto consolidata sul territorio con Azimut Marketplace un progetto appunto che si inserisce nel segmento fintech stiamo dando una risposta concreta ma allo stesso tempo completamente digitale completamente diciamo anche da spiegare all'imprenditore quindi anche molto più veloce come tempistiche molto veloce nelle tempistiche infatti si parla di circa di un'erogazione di un finanziamento nel giro di sette giorni dall'approvazione quali possono essere le cose che invece bloccano un finanziamento all'interno del vostro circuito beh sicuramente ci sono dei requisiti che vengono valutati nell'arco di una richiesta rispetto al sistema bancario tradizionale sicuramente noi valutiamo il merito dell'azienda non dal punto di vista meramente creditizio ma anche proprio di storia di bontà della economica questo è un passaggio fondamentale perché le banche lo sappiamo perfettamente tu pari a banca il maraggio non ha numeri se c'hai numeri buoni come quando andavi dalla maestra a scuola se c'hai più 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 prendi i soldi a prescindere da quello che fai se c'hai meno 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 non ti danno una lira dopo due anni di covid e questo periodo così difficile da un punto di vista economico anche che è più 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 oggi c'ha più meno forse quindi diciamo voi avete una visione diversa più a lungo termine più flessibile la flessibilità è sicuramente un termine che contraddistingue tutti i servizi della piattaforma proprio perché appunto non si vanno a vedere tutti più non c'è bisogno di una checklist di una lista che è completamente in positivo dopo due anni che abbiamo vissuto di questa tipologia sicuramente va inserita in un contesto più ampio l'impresa e il fintech permette questo una valutazione più flessibile una valutazione che non passa soltanto dal merito creditizio ma proprio da tutta una serie di fattori che l'impresa mette in piedi cioè diciamo potremmo dire che è una modalità un po' più anglofona vedo più il progetto che era e che è in divenire rispetto a il potenziale anche assolutamente mi sembrava una cosa interessante e di noi vedo che scalpitava voleva fare qualche domanda vedo che prendeva appunti quando ha sentito qualcuno che rogati un miracolo qui no è un miracolo sì anche perché complimenti per l'iniziativa ma di fronte abbiamo anche un paese indebitato perché mi viene spontaneo pensare bella iniziativa però se andiamo chi va nella blacklist le piccole imprese o quelle famiglie che probabilmente si indebitano per pagare delle cartelle o perché la pubblica amministrazione non li ha pagati quindi spesso e volentieri un'impresa salta si indebita perché la pubblica amministrazione non l'ha pagato un'attività già svolta per cui non può neanche ripresentarsi oppure per 5-6 mila euro di cartelle e qui c'è il tema anche finalmente la possono chiamare pace fiscale la possono chiamare come vogliono sicuramente la politica non può più chiamare chi è indebitato quelle imprese di 3 mila 4 mila 5 mila euro che sono degli avvisori perché gli avvisori stanno altrove quelle sono persone che non ce l'hanno fatto già prima da covid oggi non ce la fanno più possono accedere perché si accende quella lampadina rossa quando uno va su piattaforma e quindi o si interviene lì per cui bene l'iniziativa di Azumut ma non basta perché se non modifichiamo l'approccio e non si rimette in moto e meccanismo le imprese non ce la faranno mai perché comunque non possono accedere aggiungerei poi ci salutiamo perché a me il tempo è tiranno che quando poi si accende quella lampadina quell'azienda è destinata alla morte e quando dico questo dico una cosa ahimè vera veritiera è assolutamente triste perché perché sei segnalato come il cattivo pagatore vuoi pagare non ti si fila nessuno a meno che voi fate il miracolo non riesci a pagare e vieni completamente bloccato se hai dei fidi ti chiedono che vengano rientrati cioè c'hai c'hai tre possibilità o vai in malaffare chiedi i soldi allo strozzino per usare un termine un po' forte o altrimenti fallisci o altrimenti non lo so che fai i migri non mi vengono altre cose in mente vabbè è il momento di cena speriamo di non essere stati troppo pesanti l'appuntamento con Terzo Millennio torna e mancabilmente domani però come vedete parliamo delle problematiche parliamo di quello che succede però parliamo anche poi delle società che funzionano sia a livello di servizi sia a livello di credito quindi ci sembra fondamentale dare anche delle visioni diverse e promuoverle ci vediamo domani passate una buona serata ciao ciao Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima, parole senza mistero, allegre ma non troppo. Metti un po' di musica leggera nel silenzio assortante, per non cadere dentro al buco nero, che è stato un passo da noi, da noi, più o meno. Tecnologie diagnostiche di ultima generazione e a misura di paziente. Breast Center, per la diagnosi e terapia del tumore al seno. Chirurgia generale e mini-invasiva per un rapido recupero. E Dental Unit, la sicurezza dell'odontoiatria in ospedale. Tiberia Hospital, per un approccio completo alla salute, al servizio di ogni persona. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS